Un SMS complica la triste vicenda della morte di Silvia Cannelli, giovane di Grosseto, deceduta lo scorso 5 aprile alla clinica Siligato. La ragazza si era recata nella struttura medica per sottoporsi ad un semplice intervento chirurgico che non è mai arrivata a fare, perché dopo poco la somministrazione dell'anestesia totale ha avuto una crisi respiratoria. La Siligato non dispone di una sala di animazione e terapia intensiva, così i medici hanno chiamato un'ambulanza che ha trasportato la ragazza all'ospedale San Paolo, dove però è arrivata morta. I genitori della ragazza sostengono che era stata concordata con i medici un'anestesia epidurale, non un'anestesia totale, e ora spunta un messaggio della vittima che sembra confermarlo. L'SMS è inviata ad un'amica, recita infatti, mi faranno un'anestesia epidurale. Il messaggio è stato mostrato al sostituto procuratore Alessandro Gentile, che ha anche interrogato la giovane che lo ha ricevuto. A questo punto bisogna capire cosa ha spinto i medici ad effettuare l'anestesia totale invece di quella epidurale, precedentemente concordata se la ragazza e i genitori sapevano di questo cambiamento di programma e se erano d'accordo. Intanto è stato controllato anche il foglio di consenso che la vittima ha firmato prima di entrare in sala operatoria, ma è risultato essere un semplice prestampato sul quale è scritto tutto e niente, e non è specificato a che tipo di anestesia aveva accettato di sottoporsi la ragazza. Nel frattempo Roberto Abruzzese, avvocato difensore della famiglia Cannelli, chiede come mai la sala operatoria della Siligato non sia stata posta sotto sequestro. Secondo il legale occorreva chiuderla per verificare se i tubi usati per ossigenare Silvia erano in buono stato, se gli attacchi e i lacci erano vecchi e se i medicinali erano scaduti. Fondamentale resta poi capire chi era presente in quel momento in sala operatoria, se c'era un anestesista specializzato o solo il medico chirurgo. L'avvocato ha consigliato ai genitori della ragazza di nominare un consulente anestesiologico di parte che possa approfondire gli aspetti tecnici legati alla somministrazione dell'aracosi totale. Il tutto mentre si continuano ad attendere i risultati dell'autopsia. Il risponso potrebbe slittare di alcuni giorni per effettuare correttamente tutti gli accertamenti, ma sono comunque esiti fondamentali per capire cosa sia effettivamente andato storto, cosa abbia provocato la morte di Silvia che il mese prossimo avrebbe compiuto 24 anni.